E' proprio uno schifo. Che zona del cimitero? E' all'entrata. C'è un nome? C'è un nome 9. Cos'è che non va? Non va, ci sono feline, le rampe che non ti puoi attaccare per salire, gradini che mancano, la sporcizia in tutte le parti. Andate a vedere. La mutazione dovrebbe essere continua, anche perché i giardinieri pensano che il comune ce l'ha. Quindi la pulizia dei giardini, dovrebbe essere un giardino propriamente, dovrebbe essere, per grande rispetto, verso chi non c'è più in ogni caso. Quindi mi dispiace, tra virgolette, manifestarmi in una maniera scomposta, se si vuol dire, però corretta nello stesso tempo. Diciamo, sollecitiamo l'amministrazione. Esattamente. Tra l'altro ormai siamo alla commemorazione, manca poco. Non bisogna pensare all'ultimo giorno, chiudere il cimitero un giorno per fare una discreta polizia. La polizia si fa ogni giorno e come ce la lavavano la faccio ogni giorno, naturalmente. Ha ragione. Siamo saliti di un piano del padiglione 6, analogo a situazione. Vediamo i pelastri che fanno vedere proprio la propria struttura in ferro ormai arrugginita. I cittadini chiedono un intervento dall'amministrazione comunale. Noi siamo scesi sotto di un piano, sempre del padiglione 6, per vedere da vicino quella parte della struttura che ci hanno segnalato che è pericolante. Molto pericolante, le dicevo. Infatti si vede la foratura già del buco, quindi diventa più debole e si si lascia da solo. Sì, sì, noi possiamo vedere senz'altro un buco. Perché il vento lo strofina e quindi si si lascia da solo, anche perché forse il cemento a quel tempo era cemento, diciamo, che era un pochettino debole. Che pericolo c'è del settore? Il pericolo è che, essendo che prende acqua, fa molto ma molto più ruggine e facendo ruggine tende a venire fuori proprio. La materia che raccoglie. Esattamente, fa ruggine e gonfia di più, quindi sia dall'interno che dall'esterno. Quindi i detriti possono cadere in testa a chi viene qua? Può succedere.